E come si procederebbe? Antò, come si procederebbe? Non so, ci giriamo di spalle e lanciamo una bomba a caso. Ah, bellissimo. Dalla condanna morta alla roulette russe, che faccio? Vado a prendere due stecchini, ne spezzo uno, ne nascondo uno nella mano, tu lo sfili a caso e poi andiamo dall'amica tua? Non è amica mia. Però l'orologio nel culo te l'hai infilato quella. Questa è una puttanata. È una puttanata? È una puttanata! La stronza ti tende alla guata e io dico puttanate! È una stronza, fa il dovere suo. Ma quella non gliele frega un cazzo di tua madre! Sveglia di genio! Ciao Elena. Ciao Elena, che bello. Ti svegli a quarant'anni e ti dicono che puoi diventare Dio, però per diventare Dio devi recitare la parte del vigliacco. Io? Io non mi sentirai un vigliacco, sai? Perché ci hanno dato la pistola in mano, sì, abbiamo sparato o no. Adesso ricarichiamo la pistola, ci vendiamo, facciamo dei giri a cazzo e spariamo a cazzo! Ma sei sempre te a sparare! A cazzo? Sì, ma così ne ammazziamo tutte e due! Se salvi uno, ammazzi l'altro! Allora dito il dato e lascio che il cazzo ha a decidere! Ma il dato lo lanci te, sei fattuto Antonio! Cavati gli occhi, bendati! Ma quelli ti hanno messo con le spalle al muro e ti hanno costretto a sparare!